Buongiorno a tutti e ben trovati, siamo qui nella reale acicoltra tecnica di Sina Pagliari, per la mattina della mia vita, la collega di Sant'Aviglio, dove oggi, il 10-11 settembre sta per evitare i grandi lavori del palco, sia all'interno che all'esterno, rendendo la chiesa bellissima, completa e finita in tutti i suoi vertali. La cerimonia è in atto, il discopo sta tenendo la sua omerita e tra poco si dovrebbe svolgere un momento finale, in finale.